Non guardare mai l'avevano scartato perché era troppo basso e magro, pensa un po', Pazzini in aria, Pazzini può ricevere il palla, la chiama a Ionita e riceve Pazzini! Pazzini! Proprio lui segna il suo terzo gol di campionato, il primo su azione con la maglia del Verona, è al quarantesimo e 1-1 al 20 gol, il pazzo la mette! Bravissimo a sfruttare questa opportunità che razza soprattutto da Ionita perché è stato lui molto bravo a liberarsi sulla sinistra e poi tentare subito cintare una palla verso il centro, poi quando ha visto che non c'era la linea di passaggio ha aspettato e poi ha servito questo pallone a Pazzini che aveva solamente la porta spalancata rendendo mano anche l'ultimo intervento di Perin che o mai era tagliato fuori da quel passaggio di Ionita. De Maio e Izzo si sono dimenticati di Pazzini e danno entrambi su Ionita e Pazzini ne ha approfittato, panchina della Verona impazzita, abbiamo visto anche un'espressione di sollievo di Luca Toggin a tribuna. E' uno a uno, gol di Suso direi, più che autorete di Coppola come segnala la grafica, è di Pazzini che ha pareggiato uno a uno e sembra il suo quarto gol alla Genoa, una delle poche maglie con cui non ha fatto quella Genoa, però è quella della Samp nel derby per Pazzini. Grazie.